È felice di presentarvi questa casa meravigliosa. Riuscite a immaginarvi a vivere qui? Comprende un soggiorno perfetto per fare divertire e rilassare la famiglia. Una cucina eccecionalmente arredata che renda semplice la preparazione dei pasti. Gradevole camere da letto che offrono abbondante spazio a tutti. Fissate un appuntamento al più presto per vedere questa casa.